La DLF Nista Rugby ha lanciato una petizione online per la querelle del campo del Tomaselli che giorno dopo giorno prende sempre tinte più colorite. Dopo sei anni di lotte per non perdere il finanziamento da circa un milione di euro elargito da Conisport e Salute, il rifacimento del mando erboso dello stadio Tomaselli in superficie artificiale con doppia traccatura a calcio-regby sta diventando un'utopia. Il rugby a Caltanissetta è ormai presente da vent'anni continuativamente. Una tradizione della città che insieme alle squadre di altri sport quali il calcio, la pesistica, il basket e la pallavolo rappresenta la città in Italia. Nista Rugby concentra le sue attività allo stadio Tomaselli che ha curato anche negli anni, ripulito e reso fruibile a migliaia di bambini e famiglie provenienti da tutta la Sicilia, nonché dalle scuole del territorio. Il Tomaselli è la cattedrale dello sport nisseno ed oggi è minacciata nella sua possibilità di restare tale. Ad oggi non risulta la traccettura intarsiata per il rugby, pregiudicando alla squadra la possibilità di giocare, non potendo FIR concedere l'omologazione per un gambo così. Non essendoci altre strutture in città, pregiudicherebbe a centinaia di bambini di giocare ad uno sport che fa ormai parte della tradizione della città e a chissà quanti altri di conoscere un nuovo sport. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Fabrizio Blandi, delegato provinciale FIR. Abbiamo lanciato questa petizione ieri, che già stamattina ha raggiunto le 500 firme, dal Comprensorio, dalla Sicilia, da tutta Italia, perché noi facciamo parte di una rete di società che è quella delle Zebbre Family, che ci sta supportando in tutto e per tutto, insomma anche le Zebbre Parma stesse che sono il capofila di questa rete, e ci permetto di ringraziarli, diciamo si sta spendendo molto per noi. E anche grazie alla federazione io penso che sono molto fiducioso e raggiungeremo un buon risultato dal punto di vista della petizione. Così diciamo a chi ascolta diremo anche che faremo degli eventi in presenza, appunto per la raccolta firme, per sensibilizzare le persone su quello che è un problema di tutti, cioè che lo sport e lo stadio Tomaselli rimangano una struttura per tutti quanti. Anche perché ci dobbiamo sempre ricordare che qui la più grande eccellenza che abbiamo a Caltanissetta è la pesistica, e la pesistica è lo stadio Tomaselli, quindi non è uno stadio né del rugby, del solo rugby né del solo calcio, è uno stadio che va bene per tutti quanti e deve rimanere una casa che nessuno ha in questo momento a disposizione, perché gli altri sei stati più grandi del nostro sono ad esclusivo appannaggio di società professionistiche, deve rimanere quello che è, cioè una casa per tutti gli sportivi, sia professionistici sia amatoriali.